I gentili telespettatori buona giornata. Anche l'alto prelato contro la Francia, proprio il vescovo di Ventimiglia dice la Francia è poco leale con noi e disumana con i migranti. La Francia ha aperto parecchi processi in Europa proprio per come si comporta in Francia e a Ventimiglia sul confine. La reazione della Francia è spropositata anche perché la Francia non ha grandi ragioni da proporre, dice il vescovo di Ventimiglia Sanremo che con un'intervista alla DN Cronos parla di questo problema e parla proprio dell'esperienza lì, del territorio di Ventimiglia. Monsignor Antonio Suetta, riferendosi alla Francia, dice Io osserva, ragionando dalla prospettiva di Ventimiglia, faccio notare come l'atteggiamento della Francia nei confronti di Ventimiglia sia un atteggiamento da un punto di vista dei migranti non improntato ad umanità e dal punto di vista della solidarietà europea sia un atteggiamento poco leale degli imbroglioni, dei truffatori. Sono quelli che di notte portano di nascosto sulle strade italiane i migranti, li lasciano sulla strada e tornano indietro. Dice il vescovo di Ventimiglia, la Francia ha sospeso Schengen anni fa con la ragione valida, ma queste ragioni devono però essere contemperate con la situazione generale. Quindi bisogna distinguere certamente uno Stato come la Francia la possibilità di farlo tra il sovversivo e il povero migrante. In secondo luogo la Francia deve attivare una collaborazione leale con l'Italia. Il governo ha posto una questione reale? Assolutamente sì. Il punto di vista del vescovo di Ventimiglia, perché ci sono due aspetti da considerare. Uno è la ridistribuzione dei migranti nel contesto europeo. Ed è vero che questo si fa, ma è altrettanto vero che questo deve essere fatto nelle adeguate proporzioni. Quindi sta dicendo che la ridistribuzione europea è una roba farlocca, è una roba ipocrita, è una roba finta. Poi c'è un secondo aspetto che l'Italia per ragioni geografiche si trova in un avamposto e di conseguenza deve essere sostenuta e coadiuvata anche in questo speciale frangente. Vero è che la maggior parte dei migranti non vogliono fermarsi in Italia, ma è altrettanto vero che almeno all'inizio della loro avventura in Europa hanno a che fare con l'Italia. Quindi questo deve essere un aspetto adeguatamente gestito. Mi auguro, conclude, che sia l'Europa ad assumere quanto prima la regia di una gestione completa del fenomeno in tutti i suoi aspetti, il che vuol dire accoglienza e distribuzione. Ma, lo risto ripetendo in tutti i video, è alquanto utopica la faccenda, perché realmente la redistribuzione, perché re, la distribuzione, chiamiamola così, in tutta Europa non ha nessun senso, perché nessuno Stato ha intenzione di prendere i migranti in carico che arrivano in Italia. L'Europa non c'è solidarietà, lo avete visto col gas, lo vedete con i migranti. È un gruppo di Stati con una forte identità messi insieme a forza da una moneta e da delle specie di leggi, di questo specie di Parlamento europeo. Secondo me, l'esperienza dell'Europa è qualcosa di fallimentare, dovrebbe essere anche chiusa. Ecco, dopo, dal 2001-2002 fino ad oggi, l'arrivo dell'euro, eccetera, abbiamo visto che realmente l'Europa non serve a niente, serve a nulla. Difesa comune, c'è già la Nato. Per il resto a che cosa serve questa Europa che non ha nessuna intenzione di solidarizzare, di aiutarsi? Ognuno pensa per sé. Purtroppo dobbiamo dire che, ovviamente, l'Italia è stata gestita da governi anti-italiani, governi che hanno sparlato del proprio paese all'estero, denigrato il proprio paese all'estero. Ricordiamo Ciletta, che ha fatto il video in tre lingue dicendo che c'era un pericolo in Italia della democrazia, un pericolo che era anche per l'Europa, no? Si immaginava magari la Meloni affacciata da Palazzo Venezia che dichiarava la guerra a tutta l'Europa, no? Delle sciocchezze, delle stupidaggini così grandi, così grandi, che denigrano il nostro paese. La Meloni aveva chiaramente detto, noi siamo stati all'opposizione due anni, non mi è mai passata l'idea, non mi è mai passata l'idea per la testa di sparlare del mio paese in Europa. Non l'ho fatto mai e non lo farò mai, né al governo né all'opposizione. Questa è la realtà, purtroppo le sinistre in Europa sono patriottiche. In Europa è fuori dall'Europa, non esiste una sinistra anti proprio paese, non avrebbe senso. Cioè in Europa una sinistra non sarebbe proprio neanche votata, una sinistra che contro il proprio paese in Europa avrebbe zero voti. In Italia ha delle percentuali a doppia cifra. Cioè in Italia una gran parte di italiani vota per dei partiti di sinistra che sono dichiaratamente anti-italiani. Questo rispecchia un sentimento che è uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, un sentimento anti-italiano, di poca coesione sociale, che hanno portato avanti fino ad oggi gli anti-italiani, quelli dove gli altri paesi sono sempre meglio di noi. Se voi andate in qualunque paese del mondo sono tutti patriottici, sinistra e destra. Quella italiana è una gigantesca e spaventosa anomalia. Una parte del paese è anti proprio paese. Ed è questo fatto che ha portato poi i paesi europei a parlare male, a screditare il nostro paese perché legittimati da una parte politica. Non è strano che stiamo vedendo una parte della sinistra che si schiera con la Francia contro il proprio governo. Infatti Calenda allibito dice ma in queste cose non ci sono schieramenti politici. Calenda è una persona estremamente intelligente e sarà lui, non Renzi, a svuotare la sinistra perché una sinistra di questo tipo vuota e anti-italiana mi stupisco ancora che ci sia gente che la voti. Votate Calenda, votate Calenda e votate Renzi che sono la sinistra intelligente di questo paese. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e buona giornata.